Oh Antonio metto il tuonno con gli occhi, ma non ti stancano gli occhi! Non ti stanzi mai! Io sono un pro player! Oh e questo qui? Stai muovendo, avevo il sonno, non ci fai più! E io non ci vero ancora a casa! Se posso vedere che spazio fai? Se posso vedere chi vuoi? E' il capodanno, ma chiedi a mia mamma, stiamo sfettando a te! Non ci vengo per il capodanno tua mamma! Ma come no? Ciccerone! Stiamo sfettando a te! Ti dice Natale con i tuoi capodanno o con chi vuoi? Che cosa? Voglio restare con i miei amici questa sera! Antonio c'è il ristorante prenotato, muovete forza! Senti, non vengono, è inutile che continui! Senti, andiamo a fare sempre chi duca risci tu, sempre chi duca risci tu! Ma che fai tu prenotare il ristorante? Senti, io... Io... Adesso un po' tanto mamma, la posso avere di più, non ci voglio io! Ma perché oggi no? Ieri dicevi di sì! I miei amici non vengono, voglio stare con i miei amici! Ma come no? Magari Saro sta venendo con i miei amici! E' bell'amico, bravo per i pochi! Comunque io non ci voglio venere, io chi farò oggi? Ma no! Ah, e perché sto? No, non è per videogiochi! Vai giocare! Senti, senta, te non vengono, mi lasci una faccina su un botto da stupagliare tua mamma! Cosa? Te non vengono! Te non vengono! Andai al ristorante che ci dicevo che ho posto prenotato, ah! Amiche, va bene, tu pavo posto ristorante, tu pavo, te non vengono! Dai, per favore! Cioè, mi lasci solo la notte caporanno più giocare a tutte queste minchiate? Te non vengono! No! Senti, che farei chiamare a questo là? Questa è più importante di me? Oh, posso il mix box? Rispondimi, è più importante di me? No, non è più importante di te! Invece sì, chi lo vuoi? Senti, Anastasia! Mi molli? Eh, solo oggi! Senti, oggi non ti voglio avere un attento a tua mamma! Voglio stare con i miei compagni, dai! Forza, lasciami un po' di privacy! Odinni! No! Che sbaglio fai? Che sbaglio fai? Che sbaglio fai? No, 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 no! Mi spasciassi 2.000 euro di televisioni! E solo di chi si spendi i soldi? Solo di chi ti interessa? Televisioni! Non c'è qualche soldi per maritarne? Non ti interessa di me! L'eseratasia! Odinni! Fuora! Va bene, ammazzati! Aspetta, ammazzati! Ah, stasera ti fai i gono a prendere! Eh, a qui non ci fai i gono, ah! Iaga, iaga, non ti riesci più più! Sbagliare! Eh, caro, ammazzati che domani ci porta l'assistenza! Vediamo se si può abbessare! Che è in garanzia! Arrivo, arrivo! Occhio, ah! Mi raccomando, è il mio 3! 1, 2, posa la telecamera però! 1, 2, e 3! Fai attenzione! Occhio! E che è San Begao? Un do muro non si leva! Se lo ora e dà! Lo potremmo spostare! Occhio, occhio! Scusa, fratello, non lo fai apposto! Scusa! Scusa Staminia! Scusa Staminia! Scusa Staminia!